Si è svolta a Bruxelles una riunione urgente con le delegazioni di Danimarca, Svezia e Germania per la situazione inerente alla questione del trattato di Schengen. Il commissario agli affari interni Avramopoulos ha detto che sono tutti d'accordo sulla necessità di salvaguardarlo e la libertà di movimento per i cittadini e per l'economia. Intanto la Svezia ha deciso di rintrodurre controlli sistematici alla frontiera con la Danimarca. Anche la Svezia ha accolto il maggior numero di rifugiati per abitanti e si è detta sopraffatta dall'afflusso di migliaia di richiedenti. Intanto il sottosegretario agli interni tedesco Schroeder dice che il nostro problema al momento è che non abbiamo un sistema di controllo delle frontiere. Bisogna applicarlo correttamente e prendere le impronte digitali e il sistema di ridistribuzione dei migranti non funziona.